Carissime sorelle, carissimi fratelli, in Gesù Cristo, nostro Signore, voglio anzitutto ringraziarvi, ringraziare il parroco Don Alberto, ringraziare il decano per il suo saluto, tutti i sacerdoti che concelebrano con noi, le religiose che sono presenti e voi tutti per questo invito. È per me una occasione molto preziosa e in effetti poche cose un Vescovo può alla fine conoscere ed imparare se non incontrando faccia a faccia, come ci ha ricordato Don Peppino, i figli che gli sono stati affidati. Il Vescovo lo può fare in una diogesi sterminata come la nostra, molto di rado, però ha la grande fortuna, il grande vantaggio provvidenziale di essere stabilmente presente attraverso i sacerdoti e attraverso il tentativo permanente di unità e di comunione con il Vescovo e i suoi diretti collaboratori che essi praticano. Voi vivete in una città che è andata progressivamente crescendo con ritmi molto forti, a partire dalla prima immigrazione, verso la fine degli anni Sessanta, e state ora ricevendo una seconda ondata ben diversa, ben più complessa di immigrazione, come ho potuto vedere visitando la scuola Anna Franche, passando attraverso il quartiere di Crocetta. La vostra, quindi, non è una situazione facile, non è facile per gli abitanti storici di Cilisello, non è facile per tutti questi fratelli, uomini e donne che vengono da nazioni, culture, religioni diverse. Però, voi rappresentate il futuro di Milano. Questo è un dato. La storia cammina non secondo le nostre idee o secondo i nostri ritmi, ma cammina attraverso processi che ultimamente rispondono al disegno di Dio. Ed è quindi ragionevole che noi, uomini e donne, cerchiamo di cogliere la direzione di questi processi perché essi evolvano verso il bene di tutti. La nostra Europa stanca e, in paragone alle nazioni da cui questi nostri fratelli provengono, ricca, può aver bisogno e ha bisogno dell'immissione di queste forze nuove, e lo vedevo sui volti dei ragazzi delle medie, proprio perché il nuovo cittadino europeo, il nuovo cittadino di Milano, lentamente, negli anni, prenda forma. Io credo che la liturgia di oggi, sia pur brevemente ripresa dall'Arcivescovo, può aiutarci a trovare un motivo serio e adeguato per lavorare a questa accoglienza e a questa trasformazione di popolo che implica un mescolamento di culture che è in atto anche nella nostra metropoli, come in tutte le metropoli europee, anche se da noi la cosa è più difficile, perché non è avvenuta sui 50, 40, 50 anni come nelle altre grandi capitali europee, ma soprattutto si è concentrata in questi ultimi 15 anni. Dicevo prima che la storia è il luogo in cui si incontra la libertà di Dio, che ha un disegno sulla storia, la libertà di noi uomini e anche, non possiamo negarlo, la libertà del maligno, come tante volte Papa Francesco ci ricorda. Oggi celebriamo una festa molto solenne, molto importante, che conclude l'anno liturgico, voi sapete che l'anno liturgico non ha lo stesso ritmo dell'anno solare. Si conclude appunto con la festa di Cristo Re e si aprirà domenica prossima il nuovo anno con la prima domenica di avvento. E questa grande festa è la festa di Cristo Re. In che senso essa può essere di aiuto a ciascuno di noi per capire questa fase di passaggio così delicata e importante a livello personale, a livello comunitario per la Chiesa e a livello sociale. Per capirlo bene, partiamo da questo dialogo molto singolare che il Santo Evangelo oggi ci presenta. Il dialogo tra Pilato e Gesù. Pilato ha in mano, come poi la storia dimostra, la sorte di Gesù. È un politico romano, cioè un uomo avvezzo, abituato al diritto e a ricercare nel governo quelle forme che siano nello stesso tempo rispettose in termini almeno appunto letterali del diritto e tuttavia tengono conto delle situazioni che si creano, che non sono sempre facili da governare. E tuttavia, quando si trova faccia a faccia con Gesù, Pilato porta fuori la domanda che gli impremeva. Pilato era incuriosito da questa personalità, tanto più che come i Vangeli ci attestano, non capiva perché i Giudei se la fossero presa così tanto con un uomo che lui in ultima analisi riteneva giusto. E come sappiamo dai Vangeli, fece anche un tentativo, fino a che questo non comportava rischi per sé, per salvare Gesù proponendo al popolo il delinquente Barabba. E qual è la domanda che incuriosisce Pilato? L'abbiamo sentita dal Vangelo di Giovanni. Sei tu il re dei Giudei? Perché gli sembrava strano che una figura così malmenata dai capi e in un primo momento osannata dal popolo e poi insultata dal popolo con quella frase terribile crocifiggilo, crocifiggilo, lascia pure che il suo sangue cada su di noi e sul nostro popolo. Non gli sembrava il caso. E allora lì si instaura questo dialogo perché Gesù che non aveva risposto ad Erode, aveva risposto all'essenziale dei sacerdoti con Pilato e già quello è un grande segno di apertura della missione di noi cristiani con Pilato accetta di parlare, di interloquire. Gesù gli dice ma scusa tu mi fai questa domanda da te? È una domanda che viene dal profondo del tuo cuore oppure la ripeti così per curiosità perché altri ti hanno detto questa cosa e qui c'è già un bel insegnamento per tutti noi che invece soprattutto nella nostra Europa un po' un po' intellettualistica un po' decadente tante volte parliamo per parlare di tutto magari guardando la televisione vengono fuori le grandi tragedie che stiamo attraversando in questa epoca pensiamo ai nostri fratelli cristiani in certe regioni messi a morte spodestati di tutto donne e bambini venduti come schiavi in un tempo così tragico e noi tante volte ragioniamo tra di noi chiacchieriamo tra di noi non toccati dalla sostanza delle cose ma un po' per curiosità e questo non è alla fine solido non è espressione di una umanità convinta di una partecipazione autentica allora Gesù risponde in prima battuta provocando Pilato e Pilato subito si difende eh sono io forse un giudeo un giudeo sono i tuoi capi e la tua gente che ti ha consegnato a me che cosa hai fatto a quel punto lì il Vangelo fa un passaggio molto interessante Gesù non risponde alla questione che cosa hai fatto risponde in seconda battuta alla prima domanda di Pilato e spiega in che senso lui è re e questo è molto importante per noi molto importante dice il mio regno non è di questo mondo dobbiamo tenerlo ben presente perché noi quando pensiamo al re e al regno se avveniamo da una storia guardiamo alle condizioni umane e quindi siamo tentati di immaginare il regno di Dio come si immagina un regno naturale insomma un regno storico Gesù lo precisa subito tant'è vero che c'è una prova molto chiara che il mio regno non è come il regno dei romani non è come il regno di questo mondo se fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero almeno combattuto perché io non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di quaggione allora la curiosità di Pilato si riaccende e deve essere è un po' anche la nostra curiosità ma questa volta nel senso profondo della parola curiosità ha dentro la parola perché che cosa allora che allora tu sei sei veramente re e Gesù spiega in che senso re dice tu lo dici io sono re lo affetto per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità e chiunque è della verità ascolta la mia voce allora Gesù precisa il mio modo di essere essere un punto di riferimento di essere una guida ma usiamo la parola un po' difficile ma preziosa importante il mio potere di re consiste in questo nel dare testimonianza alla verità cos'è la verità la verità ce l'ha detto San Paolo nell'epistola non abbiamo tempo di entrare in dettaglio alla fine potremmo dire così che la verità è il disegno del padre di Dio padre che è un disegno di amore su tutta la famiglia umana ma è un disegno di amore su ognuno di noi singolarmente preso da prima del nostro concepimento fino al termine naturale della nostra vita l'amore di Dio che Gesù ci ha rivelato ci accompagna dentro ogni circostanza anche la più sfavorevole dentro ogni rapporto e non ci lascia ma l'amore di Dio ci tiene insieme nello stesso tempo come persone singole ognuno con la sua faccia con i suoi doni con i suoi difetti e insieme come ho visto scritto là su quel cartello ci tiene insieme ci ama ciascuno ad uno ad uno e nello stesso tempo tutti insieme come in una famiglia il papà e la mamma amano i figli ad uno ad uno e insieme insieme ecco allora il potere di Gesù è il potere dell'amore e da che cosa si vede il potere dell'amore in Gesù si vede che l'onnipotente figlio di Dio si è lasciato il languidire sul palo della croce è precipitato e ha scelto l'impotenza totale dell'amore ha dato la sua vita per ciascuno di noi per te per te per me per ciascuno di noi per liberarci dal peccato e dal terrore della morte che consegue che consegue al peccato ecco in che senso è re allora nasce da noi carissimi una grande responsabilità quella di cui ci ha parlato San Paolo scrivendo ai Colossesi che noi dobbiamo ringraziare con gioia il Padre che ci ha resi figli della luce santi nella luce cosa vuol dire vuol dire che ci ha dato un senso per la vita un senso cioè un significato un motivo per alzarci tutte le mattine e ricominciare un motivo per affrontare il nostro modo di amare di lavorare di riposare di portare i problemi le fatiche i dolori di vincere la paura di vincere la rabbia di affrontare l'esistenza costruttivamente un senso noi sappiamo per chi viviamo e quindi sappiamo perché viviamo ed un senso come apprendiamo anche dalla geografia un senso è anche una direzione di cammino la vita cristiana è una direzione di cammino allora la responsabilità che viene a noi questa sera è la stessa che San Paolo raccomanda i Colossesi con ogni sapienza con ogni intelligenza cercate di giungere ad una sempre maggior crescita nella conoscenza di Dio ecco il bello della vostra città ecco il bello delle parrocchie che fanno questo decanato insieme state camminando perché ognuno di noi possa crescere col passare degli anni senza terrore della morte senza fissarsi sul proprio peccato ma chiedendone perdono possa crescere nella conoscenza di Gesù e quindi scoprire quell'atteggiamento che Davide imparò che la prima cosa che noi dobbiamo fare non è dire a noi dire noi a Dio ciò che pensiamo di Dio ma piuttosto ascoltare ciò che Dio pensa di noi ecco il valore della preghiera un segno di croce al mattino appena svegli prima di chiudere gli occhi la sera nel sonno un'ave maria la madonna ritrovare ogni giorno il senso della vita e poi tutta la ricchezza della vita parrocchiale ecco carissimi arcivesco rinnovando la sua gratitudine vi lascia questa riflessione perché voi possiate accettare la fatica personale la fatica ecclesiale e la fatica sociale di questa nuova realtà che state costruendo e vogliate costruirla per l'utilità comune cioè per il bene di tutti Amen